La città di Fano è candidata al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021. Secondo i termini del bando pubblicato dal MIBACT, è entrato nel vivo il lavoro preparatorio del dossier per la candidatura, che andrà presentato entro il 2 marzo prossimo. La scelta di candidare Fano costituisce di soddisfare una richiesta forte, emersa durante un processo partecipativo per l'elaborazione del piano strategico della città Orizzonte Fano 2030, dove la cultura veniva intesa come strumento privilegiato di sviluppo economico e sociale, di rilancio della città quale destinazione turistica. A partire dal piano strategico, il dossier riprenderà gli scenari della città abitabile, dell'innovazione aperta e della città del riuso e della riattivazione delle risorse e altri temi. I campi, i luoghi di lavoro per perseguire questa visione sono quelli che oggi contraddistinguono la cultura a Fano. La cultura in un senso largo, quindi carnevale, romanità, città delle bambine e bambini, il mare, il territorio. Ecco, su questi cantieri, possiamo dire, sono imbastiti dei lavori che poi procureranno anche degli eventi. Ecco, così che arriviamo al programma spettacolare di Fano Capitale 2021. Vitruvio è insieme una fonte di valori. Come vorremmo presentare venerdì, si vedrà che questo ha un ambito di applicazione molto concreto. L'amministrazione comunale è entrata nel vivo del progetto. Venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna presenterà lo schema del dossier, qui seguirà la presentazione del nuovo logo, segno identificativo che accompagnerà Fano in questo percorso. Ampio spazio sarà riservato alle energie creative del mondo associazionistico, dagli operatori della cultura, dell'economia, del sociale, fino allo sport, ma anche a coloro che intendano contribuire al progetto con una propria proposta in fase di elaborazione del documento. Ed è un lavoro che rimarrà anche per il dopo, perché diventa un piano strategico, diventa anche un percorso che noi proseguiremo anche con ulteriori investimenti e realizzazioni, che portano anche valore e ricchezza al nostro territorio.